Allora, buonasera a tutti, benvenuti quindi al primo talk dell'ESC, grazie ancora per l'onore. Stasera io e Spak vi parleremo di Keycard Access della versione 2, ovvero dell'improvement che abbiamo fatto dall'ultima presentazione di Keycard Access che abbiamo fatto un anno fa ormai. Quindi, lì vedete tre nomi perché ovviamente nel progetto c'è anche Luca che fa il timido, ma senza il suo grosso lavoro sulla documentazione brancoleremmo tutti ancora nel buio. E sulla CICD? No, non è sarcasmo. No, non è sarcasmo, assolutamente no, guardate i commit, i commit non mentono. Allora, passerò subito la parola a Spak per un breve refresher su quello che è stato fatto finora, per quelli che ci raggiungono appena adesso. Allora, diciamo che abbiamo incominciato questo, ormai saranno quattro anni fa, perché abbiamo preso le tessere, le tessere sono desfire e dovevamo fare il sistema per aprire le porte del MeetLab. E abbiamo scelto le tessere prima di valutare effettivamente che cosa sarebbe stato necessario fare per rendere questo possibile. In un'avventura da 20 minuti. Esatto, un'avventura da 20 minuti proprio, e quattro anni dopo. Insomma, praticamente abbiamo dovuto fare l'intera libreria in C++ per gestire le carte desfire, per gestire anche il PN532 che è il chip che comunica con le carte. E l'abbiamo rilasciato sotto tutte quante open source, per cui le potete usare per quello che volete. E questo è stato discretamente impegnativo, ma secondo noi abbiamo fatto un bel lavoro e adesso abbiamo iniziato a lavorare effettivamente sulla parte di apertura a porte. Che effettivamente utilizzi la componente criptografica delle schede desfire. Per cui dovrebbe già essere meglio della maggior parte dei sistemi di autenticazione che trovate in giro, che usano solo l'UID. E di solito, alle fiere e quant'altro, l'anno scorso l'avevamo anche qua, avevamo anche la demo. E se volete provare con il vostro Flipper Zero ad aprire, potete provare, ma non ci riuscirete. L'idea è che quest'anno parleremo invece che del sistema effettivamente di autenticazione, è di quello che dobbiamo metterci intorno per poter utilizzare il sistema. Ovvero sia, noi possiamo anche avere un sistema sicuro per aprire le porte, ma per la maggior parte delle applicazioni quello che vuoi è quantomeno un log di chi l'ha aperta. Perché se c'è qualche erogna, rubano qualche cosa, la porta resta aperta, devi poter andare a vedere chi effettivamente ha aperto la porta. Nonché ovviamente carta smarrita, revocare la carta, le solite cose che uno non pensa, però effettivamente se vogliamo tradurre questo da teoria pratica, o anche da demo a metterlo su una porta, queste cose servono. Per cui l'argomento di quest'anno è il back-end che andrà a associarsi a Keycard Access. Non è ancora completo, spoiler. Un piccolo recap. Come funziona questo sistema? Allora, le carte dentro hanno a disposizione una serie di applicazioni con dentro una serie di file. L'idea è di mettere l'identità della persona che possiede la carta all'interno di uno di questi file. Utilizziamo una criptografia chiave pubblica e privata per proteggere il segreto, anche se la carta effettivamente ha soltanto criptografia simmetrica. Per cui ogni dispositivo coinvolto all'interno di questo sistema ha una sua coppia di chiave pubblica e chiave privata. Per cui il gate, che è montato fisicamente sulla porta, ha la sua coppia di chiavi e il keymaker, che è il dispositivo che programma la carta, ha la sua coppia di chiavi. Queste chiavi vengono scambiate e scambiando le chiavi possiamo calcolare un segreto comune, che è noto soltanto al keymaker e al gate. E con solo una delle due parti non lo puoi calcolare e neanche leggendo la comunicazione, in un momento in cui scambi le chiavi puoi calcolare questo segreto. Ovviamente la carta di per sé deve essere gestita soltanto dal keymaker, per cui utilizziamo la chiave segreta del keymaker per derivare la chiave che apre la carta e la programma, ma utilizziamo il segreto comune per derivare invece la chiave del file che contiene l'identità dell'utente. In questa maniera qui, sia il keymaker che il gate possono leggere, o nel caso del keymaker, scrivere l'identità, ma soltanto il keymaker può gestire la carta. E dal momento che abbiamo derivato il segreto da una criptografia chiave pubblica e privata, abbiamo più resistenza rispetto a non dover condividere una password tra tutti quanti i dispositivi, che a quel punto là prende il controllo di un dispositivo e è la chiave di tutti. Il diagramma che vedete è quello del segreto comune da cui viene derivata la chiave dell'identità. E questo invece è il diagramma della chiave della carta, che viene derivata dal segreto del keymaker. E ovviamente per completare l'intera baracca, l'identità dell'utente viene protetta utilizzando authenticated encryption, così che possa essere solo letto dal gate. Questo è un primer super veloce su come funziona l'intero sistema e come combinare chiave pubblica e chiave privata con un unico segreto, che è sostanzialmente quello che offre la carta. Volevo aggiungere, se per caso qualcuno avesse bisogno di qualche informazione in più, guardatevi il talk dell'anno scorso, in cui abbiamo parlato estensivamente di questa cosa. Oppure venite a chiedere dopo. Per cui sì, questo magari era veloce, però giusto per refrescere dall'anno scorso. Dunque, con questo sistema che cosa ci aspettiamo di poter fare? La parte interessante, da che cosa possiamo aspettarci di difendere? Allora, abbiamo di base, proteggiamo l'accesso all'hackerspace, ok? Il nostro obiettivo in generale è rendere sostanzialmente appetibile l'idea di sfondare la porta. Cioè, non vogliamo che un socio dell'hackerspace deve ritenere questo sistema più sicuro della sua capacità di sfondare la porta. Questo è il massimo dell'obiettivo. Cioè, dobbiamo spostare l'obiettivo dal lato informatico, dal lato, diciamo, hardware e software, a effettivamente hardware nel senso di fisicamente di aprire la porta. Per cui, questa è l'idea. Per ottenerlo, però, dobbiamo scomporre questi requirement in diversi elementi. Allora, uno di questi, ovviamente, è che soltanto il keymaker possa creare delle carte, così non possono essere create carte false da qualcun altro. Questo è abbastanza facile da ottenere, perché dobbiamo proteggere il segreto, soltanto il segreto del keymaker. Ed è fisicamente archiviato esclusivamente nel keymaker. Dopodiché dobbiamo garantire che, sì, nessuno sia in grado di corrompere una carta che sia già stata programmata, e questo ce lo fa automaticamente la testfire, cioè la carta che abbiamo scelto lo fa, ci fidiamo, insomma, sì. Perlomeno, non ci sono tantissime carte in commercio, per cui, diciamo che dobbiamo accettare che finché non ce ne sarà una completamente open hardware, dobbiamo fidarci, insomma. Dobbiamo anche far sì che l'utente non sia in grado di negare di aver aperto una porta, e questo si potrebbe ottenere, per esempio, scrivendo gli eventi di apertura porta nella flash del dispositivo, però vedremo dopo che c'è un'altra maniera per fare la stessa cosa. Cioè, ovviamente, il back-end. E dobbiamo garantire che nessuno sia in grado di capire l'identità, ma abbiamo appena detto che abbiamo usato Authenticated Encryption, e queste cose qui sono algoritmi standard e sono sicuri. E ovviamente c'è anche la questione di Denial of Service, per cui dobbiamo garantire che il sistema sia disponibile. E dal momento che non utilizza una rete per comunicare, la validazione avviene totalmente in locale sulla porta, diciamo che abbiamo questa possibilità. L'unica cosa che non abbiamo in questo schema è l'autorizzazione. Cioè, possiamo dire, sì, sei tizio, puoi entrare, ma non possiamo valutare, ah, se sei tizio, puoi entrare dalle 9 alle 18, e se invece sei l'amministratore del condominio, puoi entrare tutte le ore. Questa cosa qua, che è authorization, non esiste in questo sistema. Poi, ovviamente, questo sistema presume che non ci sia effettivamente qualcuno all'interno dello spazio che sia in grado di tamperare con l'hardware. E se vogliamo supporre che ci sia un socio malizioso del Mitelab che vuole tentare di rovinare l'intero sistema, allora le cose cambiano un attimino, perché ovviamente ha accesso fisico, per cui può cancellare il proprio log, può negare di essere mai entrato. Ovviamente può anche accedere al dispositivo fisicamente montato dietro la porta, e da lì può capire una quantità di informazioni limitate, perché le chiavi sono diversificate tra potenzialmente più porte, e quindi al massimo quello che fa è disabilita quell'unica porta. Questo non è male, insomma, perché se ci pensi dal momento che uno è dentro e è deciso di disabilitare il sistema d'accesso, beh, ovviamente è già dentro. Tuttavia, il back-end è la soluzione giusta a questo tipo di problemi, perché registrando gli eventi di chi è entrato, e avendo una piattaforma centralizzata, possiamo fornire regole di accesso per decidere chi entra, per esempio, a che ora. E possiamo anche mantenere l'elenco degli eventi separati, in modo tale che vanifichiamo la maggior parte di questi tipi di attacchi. Ovviamente questo ci dà anche delle opzioni bonus, perché possiamo fare cose del tipo, ah, stappiamo la carta utilizzando il back-end, possiamo iniziare a pensare di avere magari un distributore automatico al meet e usare la stessa carta per pagare, insomma, tutta una serie di cose che potrebbero essere interessanti. Nel momento in cui ci approcciamo all'idea, perché questo nell'ultimo anno ci siamo approcciati a come progettare questo back-end, abbiamo anche pensato a chi potrebbe utilizzare questo back-end. Allora, per noi è abbastanza facile, perché abbiamo tutta l'infrastruttura con Fripa, Identity Provider e quant'altro, ma immaginando magari di montare l'intero sistema in un'altra posizione, pensando alle capacità di chi gestisce questo tipo di installazioni, l'idea è che dovrebbe essere quanto minimo possibile, cioè al momento non possiamo richiedere a un utente di iniziare a fare una build del firmware personalizzata, di avere un segmento di rete sicuro, dedicato per questo genere di cose qua, o magari neanche solo avere un server che è sempre operativo, così come tirare su container, kubernetes, docker e quant'altro. L'idea è che dovrebbe essere una cosa semplice che metti su e di cui non ti devi preoccupare. Non è che devi andare a aprire la cassetta dietro la porta perché non ti va il firmware, lo devi aggiornare. Questo genere di cose qua, no, perché se no sicuro dopo due settimane che è operativo si pianta e qualcuno deve andare là ad aprire. Per cui se cominciamo a chiedere queste cose a un utente, in sostanza nessuno lo usa, secondo me. Secondo noi, diciamo. Possiamo magari richiedere qualche cosa di più da magari chi ha gente che si occupa di rete, per esempio il MeetLab ce ne occupiamo noi, ecco che allora possiamo magari chiedere di far girare il back-end su un server in maniera costante, ma idealmente dobbiamo ottenere gli usability requirements al minimo per sperare che qualcuno lo faccia, perché se le istruzioni sono più lunghe di una pagina uno molla la spugna immediatamente. Quindi questo è cosa vogliamo ottenere, perché lo vogliamo avere e come deve essere fatto perché ci soddisfi, in sostanza. E chi e per chi. Esatto, quindi... No, faccio... Quindi con il back-end nell'idea, ovviamente il threat model cambia leggermente. Ovviamente il key maker rimane sempre quello, quindi la possibilità di creare le card deriva soltanto da quello. L'integrità anche rimane invariata. C'è ovviamente la parte di trasmissione dati tra il gate e il back-end, per il quale l'integrità non l'abbiamo scritto qua, però effettivamente ci sta. Ah, ok, arriva dopo, giusto. Ah, sì, 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 ok. Qua c'è prima la slide di che cosa viene a mancare. La non repudiability, ovviamente manca, questo è un reprise del threat model precedente. Quindi vediamo come il back-end effettivamente va a risolvere queste cose qua. L'attenticità abbiamo detto key maker, integrità, ci siamo. Non repudiabilità, il back-end log agli eventi, quindi uno oltre a prendersi il gate dovrebbe prendersi anche il server o gli eventuali backup. Quindi diventa già un po' più difficile. La confidenzialità rimane pressoché invariata, anche perché sul back-end, ovviamente il back-end andrà protetto. Per quanto riguarda l'availability, ovviamente il denial of service perché ci rubano il gate non è super interessante, non è neanche super... è appunto interessante capire come proteggersi. le access rules sono messe nella flash, quindi anche se qualcuno tira giù la rete non è che il gate va a verificare sulla rete. L'authorization è appunto gestita dalle access rules che vengono sincronizzate dal server in maniera periodica. Ah, ecco, c'è anche questa. Appunto, e quando ci siamo approcciati a questa cosa qua, anche guardando qual era il nostro potenziale target, ci sono due modi per fare questo back-end. Il modo semplice è assumere che la rete sia sicura, tiriamo su HTTPS, e avanti che si va. mentre la cosa più interessante è quella di supporre che qualcuno potrebbe mettersi a fare man in the middle, per esempio. A quel punto diventa importante tirare su un canale sicuro e usare la mutual authentication in un modo simile o simmetrico o asimmetrico rispetto a quello che stiamo usando per le tessere. Abbiamo quindi investito due mesetti, anche di più, nell'esplorare le varie opzioni. La prima, principalmente spinta da me, che mi piacciono le cose semplici, era di usare HTTPS. Ovviamente HTTPS, anche facendo certificate pinning, facendo qualcosa tipo Let's Encrypt, il certificato di Let's Encrypt, chiunque lo può fare. Però rimane, appunto, facendo certificate pinning, rimane il problema della rotazione dei certificati. Quindi il device, il gate, deve sapere se quello che si sta collegando, al quale si sta collegando, è il vero server o è qualcun altro che ha preso un certificato da Let's Encrypt e si sta mettendo in mezzo. Quindi la soluzione banale, diciamo, a questo è fare una specie di trust on first use. Ovviamente questo vuol dire che io devo approvare le nuove firme, cioè il nuovo certificato, devo approvarlo a mano. Quindi se per caso me lo dimentico, beggio, non arrivano i log perché il server, il certificato non è più trusted. Quindi questo anche, diciamo, non ci piaceva molto. Poi abbiamo fatto un piccolo excursus in cose un po' più esotiche, tipo il fatto di avere il certificato dentro nell'applicazione, che tra l'altro ci toglie la possibilità di usare per esempio un reverse proxy e terminare SSL lì, esporre un endpoint dove il gate può richiedere per esempio il certificato firmato dalla chiave che il gate già conosce del server. Perché l'idea è quella che così come il keymaker anche il gate e il server si scambiano una chiave mutuale. E quindi l'idea era di quella di fare una cosa del genere, però ovviamente devi fare un endpoint così in mezzo, è un po' custom perché i certificati non puoi più terminarli su reverse proxy ed è un po' più arzigogolato. Ovviamente una delle soluzioni era usare il protocollo ACME con la nostra CA interna, però ovviamente questo richiede a tutti quanti di tirare su una pk.i, di tirare su freehpa o dog tag, insomma quel che l'è, per gestirsi una pk.i che diciamo l'abbiamo reputato un po' troppo complesso e un po' troppo prone a errori per un utente normale. Diciamo che se avete usato OpenVPN e vi siete fatti i certificati a mano e poi siete passati a WireGuard e avete scoperto che genera chiavi da 32 byte ed è tutto quello che vi interessa, 32 byte credo sia. Ecco, questa è sostanzialmente l'asse in cui ci troviamo. Se vogliamo fare ACME, CA pinning, avere la pk.i è l'equivalente come impegno di mettersi su tutto quanto l'ambara d'an che pilota OpenVPN, mentre invece magari vorremmo fare qualcosa più in stile WireGuard. Esatto, quindi cosa fare? Ovviamente anche lato device bisogna scegliere quale sarà il canale per comunicare. Abbiamo provato MQTT utilizzando sempre la chiave come autenticazione. Ovviamente questo richiede di avere un server MQTT custom, RMQTT che richieda un plugin che abbia un plugin per fare autenticazione custom e questo ovviamente limita molto le scelte però era fattibile, era un po' strano però era fattibile. Oppure usare MTLS dove abbiamo sempre lo stesso problema di tirarsi su una pk.i di fare rotation di certificati validità eccetera eccetera poi c'è stato appunto questo excursus nel diciamo provare al server che tu sei veramente il gate firmando con la tua chiave e mandandola in un header custom HTTP la firma del body e dopodiché ci siamo spostati sempre più la direzione ormai sembra essere quella a un canale custom su WebSocket per appunto lavorare direttamente in binario e anche qui ci chiediamo che cosa fare quindi il frutto di questi tre mesi di esplorazione è stata che comunque l'integrazione di queste cose è piuttosto complessa fare delle scelte che soddisfino tutti i nostri criteri non è proprio semplice ma soprattutto ci sono anche dobbiamo stare attenti che piccoli problemi nel setup non lasciano aperta tutta la cosa quindi la soluzione è stata fare un protocollo custom questo perché ci limitiamo usiamo direttamente primitive criptografiche standard non abbiamo robe strane da fare semplicemente scambiamo byte dentro un canale sicuro via TCP ovviamente ci siamo visti questa frase è più semplice perché è più complicato quindi qui vediamo il classico interscambio di una generazione di una chiave effimera mutuale che questo qua non lo facciamo neanche noi lo fa direttamente l'Ibsodium con una primitiva diciamo già out of the box fatto questo su un canale iniziamo a scambiare dati protetti scambiamo la chiave privata del client la chiave privata del server facciamo quello che è praticamente molto semplicemente un'autenticazione mutua e poi iniziamo a scambiare traffico noi abbiamo scelto JSON RPC codificato in cbor quindi in binario e così possiamo scambiarci dati senza ulteriore overhead ok alla fine lascio ancora la parola a SPAC per finire tutto questo per dire che pensare un sistema che sostanzialmente sia facile da usare sia potenzialmente non esposto a falle di integrazione che è complessa dipende da poche componenti è complesso e spesso e volentieri insomma quando si inizia a spingere in questa direzione gli standard preesistenti sono anche discretamente limitati secondo me e di solito quando uno inizia a parlare di protocolli custom l'intera community ti salta addosso subito però abbiamo usato cose che già esistono abbiamo utilizzato direttamente primitivi è custom tutto tranne la cripto quindi dove siamo con tutto questo perché abbiamo parlato di tante cose della motivazione all'analisi di quello che abbiamo provato a effettivamente che cosa vogliamo ottenere come ottenerlo quindi un sacco di tempo è andato investito in pensare a come fare le cose per non doverle fare magari due volte e piantarsi dopo una settimana al momento abbiamo il back end super semplice implementato in python di cui vedete uno screenshot qui che mostra gli eventi che vengono postati su un gate e questo anche con la sua interfaccina fatta con cose già pronte abbiamo il protocollo di comunicazione bidirezionale server client scritto in python funziona abbiamo ho iniziato a scrivere il protocollo in cppu per farlo andare su sp32 che è l'hardware su cui montiamo tutto questo e siamo anche lì a buon punto e non abbiamo niente ancora per le regole per gestire le access rules e ovviamente ci manca ancora l'integrazione effettivamente sul dispositivo per cui siamo diciamo e avere il software che effettivamente manda questi eventi però queste non sono cose trascendentali per cui siamo a buon punto soprattutto se crediamo in questo piano e quindi sì se per caso qualcuno di voi piace l'idea e ha voglia di contribuire diciamo che qualche mano in più farebbe anche comodo insomma esatto quindi vi lasciamo con le domande o roasting crypto se volete silenzio addormentato tutti tutti la frizzata domanda anche semplice vuoi rispondere tu allora abbiamo avuto un po' di contatti principalmente due direi uno questa è stata la make it fair adesso qualche settimana fa poi vedo un'altra domanda che stanno facendo una cosa simile in sostanza anche loro però non usano usano mi fare classic mi pare con l'identifier quindi la parte che non ci piace molto però l'idea è di unire un po' loro usano lo usano per esempio per contare le ore macchina quindi tu beggi e conti quanto tempo usi la laser c'è un altro progetto tedesco anche che fa questa cosa qua e ha integrato anche in parecchi fab lab in Germania e poi c'è un altro progettino piccolo però quello lì è basato mi pare su Desfire forse a Milano Torino che col quale abbiamo anche fatto una una colma poi alla fine non è non è sfociato in nessuna collaborazione per adesso poi vedremo comunque ci sono un po' di iniziative sarebbe carino magari unire le forze però con tutti quelli che ci siamo con cui ci siamo interfacciati sono tutti già a buon punto è un po' come noi insomma hanno già un sistema hanno già fatto delle prove hanno già ed è difficile cambiare immagino per tutti quanti esatto adesso rinunciare a quello che ho già sviluppato la scelta Desfire sì no direi che la maggior parte dei progetti che abbiamo visto si basa su Mifer Classic anche perché non pensano molto al problema della duplicazione o della sicurezza sì e usano semplicemente l'ID delle Desfire che è facilmente clonabile però così fanno la maggior parte delle aziende questa è la verità nel senso sono pochi requisiti domanda in fondo cosa veloce diciamo che questa cosa qua potrebbe costituirsi come un layer base su cui dopo applicazioni più personalizzate possono essere costruite dal momento che loro tutti questi gruppi hanno investito di più nella parte di infrastruttura e applicazione piuttosto che non nella parte di sicurezza non sono modulari queste cose quasi niente in questo dominio può essere modulare però l'idea è che almeno concettualmente questo potrebbe essere il layer sicuro e sopra loro possono costruire non c'è nulla che li prevenga dal farlo pensors sono benissimo a forcare tra l'altro domanda in fondo la ripeto io poi sì sì allora purtroppo ripeto la domanda la domanda è dato che stiamo postulando di non avere il backend sempre online come si fa se per caso arriva un aggiornamento e non arriva fino ai gate allora il protocollo prevede un hack da parte dei gate quando aggiornano il loro il loro database interno cioè loro si tengono una copia di database interno per forza di cose uno prima di spegnere tutto quanto dovrebbe assicurarsi che tutti i gate abbiano ricevuto l'aggiornamento quindi questa è la soluzione perché purtroppo altro non c'è cioè tu devi essere sicuro di aver distribuito il tuo update a tutti quanti prima di spegnere si può anche definire qualche cosa di banale del tipo quali regole posso applicare anche in caso di downtime quali regole invece vengono revocate in caso di downtime il classico esempio in cui tutto si chiude perché è andata giù la corrente ecco questo è il pensiero che c'è dietro secondo me sì comunque di questa cosa qua nello specifico non c'è ancora niente c'è tutta la parte sulle rules è una cosa che dobbiamo ancora un po' pensarci sopra il primo step era definire come parlare e il secondo step che era la cosa che ci interessa di più che per noi è l'MWP diciamo prima di metterlo in produzione è quella di avere i log le rules saranno più avanti altre domande allora ve ne faccio una io qualcuno di voi vuole contribuire al progetto qualcuno di voi vuole portarlo in Rust è una cosa che ultimamente è abbastanza esatto Rust ok no nessuno bene se avete altre domande ci trovate in giro direi che con questo mi sa che abbiamo finito il tempo grazie